Ciao amici di Guarrestari.net e a tutti gli appassionati di Star Wars. Con questo video vogliamo dare il via a una serie di intrattenimento sulla saga più figa di sempre e oggi vorrei passare al microscopio la terza stagione di The Bad Batch. Sì perché se non ve ne siete accorti il gruppetto di cloni difettosi è finalmente tornato su Disney Plus e se avete un po' di pazienza vorrei analizzare le puntate con voi. Siamo subito sul monte Tantis all'incirca qualche settimana dopo il rapimento di Omega che ora si trova in una sorta di prigionia dove ogni giorno viene svegliata da Henry, il clone femmine adulto, per fargli da assistente mentre prelevano sangue dal resto dei cloni prigionieri e da Omega stessa. Nalaseh tuttavia distrugge ogni volta il campione di Omega per tenerlo al sicuro. Avete notato le scritte in araverso sullo schermo? Significano resistenza, agilità e forza. Altro che gogo traduttore. Nalaseh che in questa stagione la lingua lunga non gliene siamo grati ci rivela quasi da subito le intenzioni dell'impero, ovvero che stanno tentando e fallendo di ricreare un modello genetico potenziato con i mirichloria. Inoltre ci rivela che i campioni test che stanno usando non sono dei cloni. Omega fa amicizia con uno dei mastini usati per mantenere sicuro il perimetro del monte Tantis. Lo chiama Butcher, un po' come se fosse parte della sua crew. Quest'animale è un po' come lei, in gabbia, impaurita. È soprattutto differente e con molta probabilità utilizzata solo per uno scopo ben preciso che, una volta obsoleto, la porterà inevitabilmente al suo disfacimento. Omega ha il disperato bisogno di connessione perché l'unico fratello che ha intorno è Crosser e lui non è molto amichevole al momento. Crosser infatti si trova nella stessa struttura. Omega gli fa visita costantemente da notare il tremore nella sua mano, forse un effetto collaterale dei vari esperimenti o forse un problema psicosomatico sviluppato durante la reclusione. Ho il sospetto che Crosser si unì all'impero solo per via del suo talento. Talento difficilmente adattabile al di fuori della vita militare. A rendere ancora più triste questo episodio è il fatto che Omega stia secretamente costruendo una replica del pupazzetto che aveva sulla Marauder con dei pezzi di paglia. E questo ci ricorda che, nonostante le sue grandi capacità, è pur sempre una bambina, intrappolata e sola. Passano cinque mesi da come si può notare dai segni sul muro, ed ogni giorno Omega si unisce a Emily per raccogliere il sangue e ogni giorno il suo campione viene distrutto da Nalase. Crosser, in modo molto consono alla sua personalità, continua a insistere che Omega debba lasciarlo in pace e pensare solo a se stessa, cercando un modo di fuggire e lasciarlo lì, in quanto sente di meritare la punizione. Trovo questa scena meravigliosa, perché a modo suo sta cercando di proteggerla, di non essere un peso nei piani di fuga di Omega. Nel frattempo riceviamo qualche altro pezzo del puzzle. Nalase informa il dottor Emdoc che la trasfusione dei Medichlorian ha avuto successo, ma il conteggio degli M è diminuito notevolmente nel trasferimento. Nel canile intanto Omega scopre che Butcher è programmato per essere soppresso. A quanto pare le attenzioni di Omega lo hanno reso troppo debole. Questo perché l'impero valuta più la forza dell'individuo che la sua lealtà. Omega libera Butcher, ma Hemlock sostiene che questa azione non cambierà il destino della bestia, mentre il clone insiste sul fatto che il segugio meriti una possibilità. Questa è una metafora di come anche i cloni hanno bisogno di una seconda possibilità per trovare uno scopo della vita dopo la guerra. Nel secondo episodio ci riuniamo ad Hunter and Wrecker mentre consegnano un membro del sindacato Pike alla madre di Roland, in cambio di informazioni sulla posizione del laboratorio di Hemlock. Vi ricordate Roland? Roland è il devaroniano al quale il sindacato tagliò il corno nella prima stagione. Avete notato il simbolo sull'armatura dei devaroniani? Sembra un trono avvolto dal fuoco, e come sappiamo che i devaroniani sono ignifugi. Bel dettaglio, no? Il duo decide di partire alla ricerca di Omega, senza aspettare l'aiuto di Rex e Heko. Atterrati su un pianeta boscoso, Wrecker sente l'odore di un Jotas putefatto. I Jotas erano quelle bestiacce che facevamo a fette in Jedi Fallen Order. Presto scoprono che le informazioni erano obsolete, trovando un laboratorio che è stato distrutto da tempo. Nella foresta vengono fermati da due giovani simicloni, sopravvissuti al bombardamento e distruzione del laboratorio, dove si trovavano dopo il loro trasferimento da Camino avvenuti alla fine della prima stagione. Scopriamo che il laboratorio fu distrutto dopo che uno degli esperimenti dell'impero è andato fuori controllo, infatti l'intera struttura è infestata da delle creature e pianta striscianti. I due giovani cloni portano Hunter e Wrecker nel loro nascondiglio, dove un clone leggermente più grande, di nome Mox, doppiato dal grande Daniel Logan, il Boba Fett dell'attacco dei cloni, non vuole avere niente a che fare con i cloni adulti, che proseguono la loro missione insieme a solo uno dei cloni giovani. Il gruppo si infila con non poca difficoltà nella struttura abbandonata e riesce a scaricare qualche informazione dal sistema ancora funzionante. Nel frattempo gli altri due cloni decidono di rubare la Marauder per fuggire dal pianeta, ma hanno un ripensamento e salvano i nostri eroi. Nel terzo episodio torniamo su Tantis. Per tutta la puntata abbiamo questo senso di urgenza scandito dalla rotazione in senso orario dell'analizzatore di sangue. Omega si accorge che qualcosa bolla in pendola, infatti scopriamo che l'imperatore sta per fare la sua visita nella struttura. Nala 6 a questo punto avverte Omega di usare il suo datapad per trovare una nave e fuggire al più presto. E così inizia la frenetica fuga improvvisata di Omega, che come promesso fa la sua prima tappa da crosshair per liberarlo. Dopo la riluttanza del fratello scorbutico, i due finiscono per lavorare insieme come un vero team. Brividi riescono a fuggire dal canile, non prima di stordire però Embry, che sembra essere totalmente sotto il controllo dottrinale dell'impero. Hemlock accoglie l'imperatore e lo porta nella stanza figa che non ci avevano fatto vedere nel primo episodio, quella con tutti quei sistemi laser di sicurezza. All'interno richiede il tetro suono del lato scuro. Le linee rosse che formano le rune della lingua antica dei signori dei Sith sono solo un esempio di quanto segreto e misterioso sia il progetto necromante. Che abbiamo sentito nominare per la prima volta nella terza stagione di The Mandalorian, vi ricordate? È chiaro che Palpatine sta cercando di creare un clone in grado di contenere il suo spirito dopo la sua morte, così da poter governare la galassia per sempre. Mentre Omega e crosshair vengono inseguiti dai caccia, Hemley, ripresarsi dallo stordimento, avverte che il campione di sangue di Omega ha dato un segnale positivo, mantenendo il conteggio di M e assicurando la fuga di Omega e crosshair nell'iperspazio. Ora sapremo che Omega in qualche modo è legata al ritorno di Palpatine in episodio 9. Tuttavia non sono molto convinto del fatto che lei sia sensibile alla forza, però già nella prima stagione sappiamo che anche lei, come i suoi fratelli, è potenziata. Il quinto membro della Bad Batch. Ma per gli altri cloni sappiamo qual è il loro talento, ma non abbiamo mai saputo il suo. Forse Nala Se ha inserito nel suo sangue i Midi-Clorian per cercare di creare un clone for Sensitive? Non lo sappiamo, lo scopriremo forse nelle prossime puntate. Grazie a tutti per essere arrivati fino alla fine del video. Spero vi sia piaciuto, spero sia stato informativo. Se volete che ne facciamo altri così, lasciate un like, lasciate un commento, condividete e soprattutto iscrivetevi alla pagina di Guerrestellari.net. Volevo ricordarvi anche che ogni lunedì alle 21.30 discutiamo degli episodi più nel dettaglio e parliamo anche di qualche novità della settimana. Grazie a tutti e ciao!